E' nata famiglia tutta accompagnata degli zani, oppure o bere se lo vieno loro. Allora noi adesso ringraziamo questa famiglia e da tanto tempo che me ne sono accorto il miglior rinfresco è quello di Livio Alberto. Bravo! E dopo aver ascoltato questo bel canto posso parlare con sentimento a Giovanni, gli voglio lasciare altre cento canzoni da poter intonare. Oh il pizzanto che ci ha dato, oh menziona il vino. Penso e ripeto! No 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 adesso, questo vino sarà vendi cronico. Non posso lasciare anche quella nuova cosa? Prima il bevuto quello là, quello del dolce. Vai adesso lasciamo la parola ai Puccinella. Silenzio, penso e ripenso ma a pensare non voglio. Tra Giovanni e Luigi chi cucina meglio? Non ci voglio che sono Puccinella, boccia e l'Uveggio a che spadella. Grazie mille. Procediamo adesso.